Son forse un poeta? No certo, non scrive che una parola ben strana la penna dell'anima mia, follia. Son dunque un pittore? Neanche. Non c'è che un colore nella tavolozza dell'anima mia, ma ningunia. Un musica allora? Nemmeno. Non c'è che una nota nella tastiera dell'anima mia, nostalgia. Son dunque che cosa? Io metto una lente sopra il mio cuore per farlo vedere alla gente chi sono i salti in banco dell'anima mia.